È avvenuto a Camerino in mattinata il passaggio simbolico delle tre chiavi di Unicam da parte dell'ormai ex rettore Claudio Pettinari al nuovo incaricato Graziano Leoni. Ogni chiave significa qualcosa, tutte e tre insieme sono il sigillo che unisce l'Università degli Studi di Camerino alla città, soprattutto dopo i drammatici eventi sismici che hanno colpito la zona nel 2016. Avevo preparato un discorso mentre ero in macchina, afferma commosso Leoni, ma qui davanti a voi posso solo esprimere la mia gioia ed emozione per questa carica. Didattica e ricerca saranno i due pilastri del mio programma per i prossimi sei anni. Il professor Leoni ha poi presentato la squadra che lo affiancherà alla guida dell'Ateneo. Con lui ci saranno il direttore generale Andrea Abraschi, il prorettore vicario Emanuele Tondi, la professoressa Giulia Buonacucina, prorettrice alla didattica, orientamento e formazione, la professoressa Sara Spuntarelli, prorettrice alla persona, benessere ed opportunità, la professoressa Anna Maria Eleuteri, delegata all'attuazione delle politiche di Ateneo per lo spazio europeo della ricerca, il professor Guido Favia, prorettore alla ricerca e al trasferimento tecnologico ed infine il professor Andrea Spaterna, delegato ai rapporti con il territorio e al diritto allo studio. Al termine della cerimonia il presidente del consiglio studentesco ha vestito il rettore con la toga dell'università, atto che simboleggia la completa dedizione e presa in carico da parte di Leoni e che con una frase congeda tutti, siamo Unicam.